L'Avellino di Giovanni Gnoffo, che finora è stato capace di sovvertire qualsiasi pronostico, per la prima volta in questa stagione si trova ad occupare il ruolo di favorito. Contro il Biceglie, fischio d'inizio alle 17.30, la squadra bianco-verde sarà per la prima volta chiamata a fare la partita contro un avversario in crisi di risultati, di gioco e con il tecnico Rodolfo Vanoli, che sente la sua panchina scricchiolare. La conferma è venuta dal test infrasettimanale, in cui i pugliesi degli ex Wilmots, Casadei e Diallo già reduci dalle batosse in campionato contro Regine e Potenza, hanno subito lo smacco di essere sconfitti, addirittura per 2-0 dai corregionari del Gravina. Guai però a farlo notare ai Gnoffo e Cinelli, che stanno tenendo tutta la rosa sulla corda senza aver deciso tuttora modulo e formazione. A 24 ore dalla sfida contro il Biceglie, la tentazione più forte resta comunque quella di confermare il 5-4-1 delle ultime tre sfide, concedendo a Selic a destra e Parisi a sinistra maggiore libertà di spinta. In questo caso, l'undici di partenza rischia comunque due variazioni, con il ritorno di Zurlo in difesa al posto di Lanes, ma l'argentino è favorito, e Albadoro in pole in luogo di Charpentier. Si tratta in ogni caso di calciatori destinati a passarsi spesso il testimone in una settimana caratterizzata da tre gare ufficiali, al di là dei moduli e dei risultati. Con Nermin Karic, sempre in dubbio, in caso di passaggio alla difesa a quattro muterebbero soltanto le posizioni degli stessi elementi con la Ezza, nuovamente sperimentato nell'insolito ruolo di terzino destro, il Lanes o Zurlo centrale al fianco di Morero e Parisi bloccato sulla linea di difesa. A scalare in mediana, in questo caso, sarebbe Selic a Kcomikovski che ne trarrebbe giovamento perché tornerebbe sulla sua corsia mancina. Per il resto, il tripote di centrocampo, imperniato sulla dinamicità di De Marco, la geometria di Di Paolo Antonio e gli inserimenti di Rossetti, non è nemmeno lontanamente in discussione, pure in caso di rispolvero del 3-5-2, che avrebbe il solo scopo di affiancare ad Albadoro o Charpentier lo scarpitante al Fageme. Moduli a parte, che ignofo non si farà scrupolo di modificare nel corso della gara, il vero dubbio della vigilia è quello del terminale offensivo. Per gerarchia, Diego Albadoro appare favorito, ma Gabriel Charpentier, che l'altro ieri ha ricevuto anche la visita al partenio Lombardi del suo scopritore Giuseppe Cannella, sta impressionando sempre di più lo staff tecnico. Per adesso la sua convivenza con l'ex Ternana appare un po' complicata, ma non è affatto da escludere che col passare dei giorni l'intesa possa migliorare, dando vita ad una sorta di remake di quello che nella penultima promozione in B vide Panzer, Biancolino ed Evacuo, giocare quasi sempre in coppia. Grazie.